segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma il problema è chiaro che quando c'è una guerra non è che c'è una facile disposizione a negoziare il negoziato è una ricerca faticosa ma va fatta qui si è fatto il contrario si è esasperato e lo hanno fatto soprattutto gli stati uniti d'america biden si è portato in un modo totalmente irresponsabile gli europei che poi sono quelli che rischiano di subire il peggio da una guerra mondiale sono stati zitti più o meno e lo salvo gli inglesi naturalmente e a me devo dire che mi fa un sì che hanno messo pure loro fuoco sul fuoco anche gli inglesi sì no ho fatto aggiunto gli inglesi nel senso che sono stati come biden è difficile quando ho sentito ho sentito ieri non mi ricordo più da quale televisione qualcuno che diceva mi sembra una pazzia mi sembra un sogno poter portare putin davanti al tribunale dell'aia e insomma capito che è difficile fare un negoziato se si comincia così ma io devo dire che mi fa un certo orrore la contabilità sui morti della guerra e quanti ne sono morti sono se tratta di 3 mila civili oppure di 2500 è la guerra che è una violazione del diritto umano perché il primo diritto umano soprattutto dopo due guerre mondiali che abbiamo subito e di non avere più la guerra è ovvio che la guerra produce violenza da tutte le parti e quindi ce ne sarà più armi diamo più ci sarà violenza più ci saranno morti e il conteggio di come sono morti mi sembra francamente secondario rispetto all'impegno per impedire che ci sia la violenza che poi è un escalation perché noi non abbiamo fatto noi occidentali che eravamo dalla parte giusta buona sacrosanta una quantità di morti civili pazzesca la bomba di roshima era una buona bomba o era una bomba cattiva non lo so allora è evidente che la cosa fa anche un po orrore la guerra porta questo no non solo può